È salito sul tetto della sua bancarella per evitare che gli operai del comune la spostassero. Claudio D'Agostino, titolare di una delle ultime due postazioni ambulanti rimaste sul lungomare, ha messo in campo una plateale e singolare protesta che però si è conclusa nel giro di poche ore senza conseguenze. L'uomo, un fruttivendolo e commerciante piuttosto noto in riviera, da anni gestisce una rivendita di articoli da mare nei pressi del ristorante del Vice e di fianco allo Shalai Nadia. Tre giorni fa il comune con un'ordinanza aveva comunicato la rimozione coatta delle ultime due bancarelle rimaste sul lato est del lungomare. Stamattina, poco dopo le sei e mezza, vigili urbani ed operai del comune hanno portato sul posto una grossa ruspa per lo smantellamento ed il trasferimento della struttura a pochi metri più a nord, sul marciapiede ovest che si trova all'altezza del torrente Ragnola. I lavori sono iniziati regolarmente ma sono durati pochi minuti. D'Agostino ha infatti raggiunto l'area ed ha impedito il prosieguo delle attività, piazzandosi sul tetto della bancarella e lasciando la moglie a fare la guardia alla porta d'ingresso. Il risultato? La polizia municipale ha dovuto chiudere la strada e deviare la circolazione su Via dei Mille. Una folla di curiosi non ha voluto ovviamente perdersi la scena, mentre D'Agostino urlava che nel chiosco c'erano 30.000 euro di merce che non poteva essere rimossa con la semplice ordinanza del comune. Il commerciante dopo aver atteso in vano una sospensiva del provvedimento è sceso intorno alle 11.30 quando la polizia è riuscita a convincerlo a far partire i lavori di rimozione. Due anni fa nella primavera del 2006 si era ripetuta un'analoga situazione. In quel caso D'Agostino riuscì ad evitare lo smantellamento nonostante quasi tutti gli altri ambulanti avessero già pacificamente abbandonato l'area. Stavolta non gli è andata altrettanto bene.